Questa è un'autostrada in cui ci sono dei problemi, in questo caso dei problemi che hanno rilevanza penale perché è stata realizzata un'opera importante in paresse violazione della normativa che tutela dal rischio idrogeologico. Tutto questo è sanzionato e quindi abbiamo avvertito l'obbligo di intervenire immediatamente per evitare che possano esserci pericoli per la incolumità pubblica. L'attività in questo procedimento è stata molto complessa, che ha vari segmenti che vanno dal reato di falso al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, eccetera, 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 eccetera. I filoni sono tanti del lavoro, parte del quale è stato cominciato dalla procura distrettuale, quindi con un segmento abbastanza importante. Nell'ambito degli accertamenti tecnici noi cosa abbiamo appurato? Uno, che l'opera che è realizzata non corrisponde al progetto originario perché ci sono delle riformità che sono delle riformità anche abbastanza importanti. Due, che dobbiamo capire se queste riformità incidono sulla staticità dell'opera. Questo ancora è un accertamento che non è stato fatto perché ci sono dei collaudi dell'ANAS, ma questi collaudi sono da prendere un po' così con le pinze perché abbiamo emergenze che li contraddicono. E quindi dobbiamo capire se staticamente quest'opera è valida. Allo Stato parrebbe che non ci siano problemi di staticità ma solo problemi di riformità. Tre, però, c'è un problema di tutela dal rischio idrogeologico. A marzo è piovuto un po' di più, lì si è allagato tutto. Se c'era qualcuno, qualcuno moriva. Ma questo non è un discorso che afferisce alla transitabilità dell'autostrada, afferisce alle vie sottostanti e alle aree sottostanti. Quelle le abbiamo sequestrate, per questo siamo intervenuti subito, per evitare che potesse maturare qualche problema serio per l'incolumità della collettività. La procuratura diceva in conferenza stampa che questo è solo il primo step. Sì, perché noi adesso abbiamo da quantificare l'eventuale danno per l'erario. E questo è un discorso che chiaramente è tutto un po' da quantificare e occorre molta attenzione. E poi capire se quest'opera corrisponde effettivamente a quello che doveva essere.